Anticipazioni tempesta d'amore, sabato 20 marzo 2021. Kim non vuole dire addio al suo cavallo e suggerisce agli altri comproprietari di vendere le loro azioni per salvare il Fustenhoff. Ariampero si oppone fermamente. Christophe entra in gran segreto nella stanza della donna e inizia a provistare tra i suoi effetti personali in cerca di elementi compromettenti. All'improvviso Selina si trova di fronte a lui. Stephen è felice, lui e Franzi hanno trascorso un weekend spenserato dalla zia Margit. Ma quando il ragazzo apprende da Amélie che Tim ha fatto una proposta a Franzi per riavere il suo vecchio lavoro al Fustenhoff, Ibrahim Maddener precipita nello sconforto. Paul vuole prendere un congedo non retribuito e continuare a lavorare al Fustenhoff dopo il giro del mondo che farà insieme a Michelle. La Kallenberg respinge la sua domanda. Il Linderg minaccia di dimettersi cosa che Ariam accetta con sorpresa. Michael attira l'attenzione del ragazzo proponendogli una interessante opportunità professionale. Il giovane cosa farà? La accetterà? Cancellerà il viaggio con la Ostenmann. A presto, a presto, a presto. Grazie a tutti.